Ehi da ciò ormai, io sono Mazzeses... Sì, proprio lui. E ben ritrovati in questo nuovo video di Expeditions Rome. Siamo stati aggrediti all'improvviso da questi ragazzotti che sono degli amici di Mithridate. E in pratica, che cosa vogliamo fare? Nulla, dobbiamo seccarli tutti oppure scappare fortissimo. Allora, la situa non è semplicissima. Però potremmo effettivamente ritirarci qua dietro e cercare di sfruttare la situazione. Sono tanti, ma sono abbastanza tutti dei pivelli. Per cui, allora, li metterei... Quelli che corrono poco li metterei davanti. Lui è... no, questi sono io. Così, ok. Iniziamo in questa situazione. Allora. Corre poco, ma corre in su. Eh, forse è meglio... Ma se Sineros facesse il suo... Logistics? Così, tiriamo giù uno almeno. Allora, io posso anche arrivarci, effettivamente. Spero di prendere attacco d'opportunità. Probabilmente sì. No. Quindi è andato. Muoverei lui su. Sineros ha già fatto tutto, per cui... Muoverei magari dopo. Mentre invece Iulia da qua vede... Quello là sotto, più che altro, lo vedrà mai. Come ho messo quello sotto? Potrei effettivamente muoverla qua. Fare un Barbed Arrow. Però potrei non scioglierlo. Meglio un Quick Shot, almeno siamo sicuri. Ultime parole famose. Lì, vedrebbe da là. Nulla, la lascio là, allora, Iulia. Bestia può fare qualcosa? Può fare niente. Può avvicinarsi qua. Ancora dei movimenti. Dea Neira? Anche lei può avvicinarsi. Beh, stia ancora dei movimenti, ma... Non... Beh, posso andargli addosso, effettivamente. E poi fargli un Piercing Damage qua. Che male non fa. E io posso andare in quella direzione, anche. Visto che i movimenti ne restano. Andargli addosso, così meno tirare non può tirare. Abbiamo il vantaggio del terreno. Sì, proprio la vittoria. Faccio una strage proprio qua. Quanto corre sto ragazzino? Ma quelli possono scendere. Noi non possiamo salire, ma loro possono scendere. Non buono. Non buono. Più che altro è per quello che c'è addosso Iulia Calida. Prima da tutte le forze nell'altra direzione. E invece... Ah, ci ho provato, eh. Allora... Ehm... Esatto. Poi con lui farei un... Ah, no. Questo però ci arrivo, vero? Sì. Ottimo. No, no, dei neeri a Iulia. Non so, invece, avere due donne. Questo. Ah, in automatico l'ho mandato da un'altra parte. Buono. Ok, non l'ha seccato mai bleeding, per cui non arriverà fin qua sano e salvo. Su quelli non ho possibilità di vedere nulla. Però ce n'è parecchi qua. Per cui allora farei che Iulia la faccio arretrare leggermente. in modo che così, almeno, se vogliono arrivare qua, devono pigliarsi dei... dei tiri d'opportunità. Allora, vado qua con questo. Ah, beh... Iulia puoi... Si prende il tiri d'opportunità ad andargli addosso. Quindi farei... Allora, se... No, questo è scudato, cavolo. Nel senso farò un overpower. Ah, c'ho zero bandage. Zero pila, zero acqua. Tre zero. Ma quello zero cosa vuol dire? Ma non è vero, ma... Ma siete tutti pazzi. Cioè, questo potrebbe ben tirarlo, ma mi piglio l'attacco d'opportunità. Ehm... Iulia e Sine rossano il fuoco, ma... Non mi serve in questo momento. Ah, Iulia calida ha dei... Cosa facciamo la movimento? Ah, può arrivare di qua. Questa è una buona cosa, però rischia poi di essere circondata facilmente. Per cui la metterei... Qui... E... Ma bestia anche può passare di qua. Può. Aspetta, sali su qua? Vai qui. Tu... Vai qua giusto per fare numero. E bestia fai un... Questo che gli dà anche bleeding. Sì, Neroz, può essere utile per qualcosa. Revive... Pure dà di nuovo coordinated. Ma questi sono già coordinated. Per cui direi niente. Cosa è andato? Ahia! Cosa è che ha lanciato? Dell'olio? Non ci piace. Perché questo viene giù sotto? Cerca di armare un forte agli altri, ma... La situazione più scomodata da gestire sarà quella lassù, non questa qua giù. Allora, lui c'è le altre che si pigliano la tiro d'opportunità. Allora, tu fai uno slash, così. Ok. Poi, Dea Neira. Quell'attacco là non riusciamo mai a farlo una volta. Così. Bestie, invece, tu vai su. Questo. No! No! Siamo nei guai. Cioè, non troppo, ma un po' sì. Ha potuto fargli fare il danno all'altro. Ma c'è un po'... Che problemi ha quella gamba? Sì, però... Ehi tu, Sino, scusi, dai... Di nuovo il Logistics. Iulia, vai qua. Ehi, andati via subito. Ehm... Questo è 10-13. Non vorrei rischiarmi, per cui andrei su questo col Bleeding. Ok, infatti è andata bene. Lui ha ancora un'azione. Ma cosa può farse di quell'azione? Niente. Possiamo dare un Logistics. Che male non fa. E passare. Ah, qua è risolta la situazione del problema e sopra, appunto. Show no mercy. Siete già... Spacciati, praticamente. Bestia è l'unico che sta rischiando. Oh, e invece? Invece, bravo bestia. Allora, userei lui. Tirargli giù lo scudo. E poi ha 12, no? Lei dovrebbe riuscire a cavarsela con un Quickshot. Ehm... Vede qualcuno? No. Però può muoversi. Tipo qua, vede lui. Ok, ottimo. Poi muovi qua, Giulia. Tu vai su. E tu anche vai su. Mi hai trovato utile fra le Logistics prima. Ehm... Allora, lui. Farei uno Slash qua? Come avanzerei qua? Farei un... Ma farei un... Ok. Così posso dare un... Flank è da lui. Lei non può... Scioglierli. Non vedo cosa c'ha questo, più che altro. Ok. Vai. Mancato. Porca pupazza. Bestia. Questo è al cosino? Sì. Buono. Backstab. Su questo che dà il doppio. No! Come l'ha mancato! Vedi questo, allora. Mancato di nuovo? Ah, perché è nel fumo, quest'uomo. No. Ma come va? 50-50? No, non è 50-50, mi sa. No, è imprendibile. No, non lo vede perché è fuori da tutto, ma... È proprio completamente invisibile il tizio, fin dato che l'ha. Ma quanto dura il fumo, però? Ah, io farei una cura da Cineros a Tizio qua, ma no, gli devo essere vicino, vero? Cannot reach, infatti. Se mi muovo qua sotto, lo conta come contiguo? E lo so che non abbiamo... No, facevo un interrupt, scusa, da Julian. Ma chi è che è rimasto il tizio là? Sono andato giù con l'interrupt e... Vorrei provare più che altro l'abilità di bestia. Ah, non abbiamo più focus. Eh, niente. Ok. Non era così necessario, però comunque ce la siamo cavata bene, dai. Bella... Bella piccola battaglia. Qua c'è... Della roba. Qua c'è un sacco di gente, fortuna che non siano scappati, perché... Buono, quella ha fatto un salto e ovviamente si spaccava tutte. C'è ancora un tipo là. E... C'erano altri tesori. Sì, ci sono dei bauli qua. Vara, che fico. Hanno fatto bene ad aggredirci, quasi. Non vorrei dire, ma... Mitridate ha fatto una... Un'azione un po' sbagliata. Ah, c'è roba anche qua. Guarda lì. Guarda lì che saccheggiatori. Ah, c'era anche un coso là su, non l'abbiamo visto. E io prendo questo dietro il cespuglio. L'ha capito, eh? Sì. No, qua non c'è altro. Credo. Nel dubbio... Scendiamo da questo lato qua, che... Mare non fa. No, non c'è niente. Sì. Live map. Oh, niente, è definito già il video. Abbiamo solo fatto un combattimento. È nulla. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivervi al canale, se per cosa non è stato già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti. 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 Grazie a tutti.